25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'impegno della Polizia di Stato è forte e costante anche in campagne e progetti di informazione. E' con noi oggi un noto personaggio toscano a dire no alla violenza sulle donne. Salve, salve a tutti. E' anche un momento storico questo, perché c'è bisogno di dire no alla violenza sulle donne. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri figlioli si meraviglieranno che il 25 novembre eravamo qua a dire una cosa logica, come quando mi viene in mente i neri che richiamavano poi negri in America dovevano andare in fondo al pullman. Cioè una cosa così logica come la non violenza sulle donne, siamo a raccontarcela e a farne un evento. E' una cosa incredibile. Però è anche epocale il fatto che cambierà per forza. C'è una sensibilità, bisogna, come si raccontava prima con la telecamera spenta, educare i ragazzi, educare i figlioli, educare le nuove generazioni alla logicità, cioè al rispetto totale delle donne. Questo video visto tra vent'anni farà tenerezza, come ora fa tenerezza, i cartelli, appunto, che dicevo prima, logici della discriminazione razziale. Sono andato abbastanza bene e io terrei questa.